Il suolo è vita, il suolo è un essere vivente che deve respirare, come tutti gli esseri viventi che devono respirare devono essere a contatto con l'aria ed è per quello che non deve essere coperto da cemento o da asfalto. Allora in città è anche importante che il suolo possa respirare e qui siamo a Friborgo nel parco di Perolla dove Pronatura ha lanciato un progetto per poter valorizzare questi spazi liberi e poter favorizzare anche la biodiversità. Il suolo qui a Perolla è un suolo che è stato apposta fatto in maniera povera diciamo nel senso che non ci sono dei contributi nutritivi e quindi la biodiversità può veramente esplodere, ci sono veramente dei fiori e quindi degli insetti che possono svilupparsi in questo parco.